buongiorno a tutti buona domenica ben ritrovati sono qui questa mattina per raccontarvi brevemente il successo di alcune fotografie per le rassegne promosse da landscape photography magazine dei guardanti i laghi e questo suave concorso fotografico denominato autumn visions 2021 prima però vorrei renderti partecipi di una notizia molto bella è appena uscito il libro dedicato a dante nel progetto dante 2021 durante il festival di fotografia di trieste promosso da dot art in collaborazione con exhibit around mi anticipo solo la fotografia vincente eccola qui che ha dato così tanta visibilità alla città di vercelli non mi dilungo più di tanto su questo perché a breve faremo un'intervista qui sarete tutti invitati proprio inerente esclusivamente questo progetto ma vediamo ora la rassegna giornalistica di questo mese allora partiamo da dai laghi eccoci qua qui siamo a l'od quindi chamois nella val tournage questa fotografia è stata scattata il 15 agosto scorso durante una gita giornaliera con il pullman vedete qui una panoramica del lago di l'od qui c'è una descrizione diciamo a sapete si raggiunge soltanto con la funivia oppure attraverso un sentiero molto bello fatto ad anello che congiunge chamois proprio alla magdalen quindi abbiamo questo piccolo bacino artificiale che è ricco di diverse specie botaniche quindi offre un interessante punto di vista naturalistico qui nel dettaglio nella fotografia sono citate queste specie qui di polygonum amphibium che una pianta perenne che si trova sia in ambienti acquatici che in ambienti terrestri e predilige ambienti soprattutto di acqua dolce ho usato qui una nikon di 5200 con il grand angolo al 18 55 mm c'era un sole molto molto forte che aveva reso molto difficile quel giorno fotografare perché io praticamente soffro anche di mal di testa per il sole quindi ho dovuto fare molta molta attenzione devo usare cappelli particolari comunque sono state delle fotografie di notevole interesse naturalistico passo alla prossima fotografia che ritrae gressonei san jean questa fotografia è stata realizzata alla metà di ottobre nel weekend del 16 ottobre presso il lago di gover ho realizzato questa immagine nell'ambito delle giornate d'autunno e ho avuto modo di visitare prima castel savoia dove ho potuto realizzare una serie di immagini che poi purtroppo sono anche state ingiustamente così criticate con insulti proprio fuori luogo per una cosa può piacere ma non piacere ognuno al diritto di opinione ma arrivare a offendere degli utenti su un forum secondo me è cosa molto grave quindi sono ricorsa ai provvedimenti opportuni qui ricordo che grassonei ha un tipico stile valser in che la accomuna alle località piemontesi di alania valsesia e di riva valdobbia in provincia di vercelli e in questa regione in questa in questa parte della valle d'aosta prevale la comunità tedesca quindi abbiamo l'unica eccezione nella regione alpina dove il bilinguismo comunque italiano francese è predominante il lago offre una magnifica posizione per ammirare come vedete la catena del monte rosa riflessa in acqua tra bellissimi colori autunnali se vi spostate poi sulla sinistra ci sono dei colori rossi molto belli potete vedere nel mio sito web dedicato proprio a aggressionei se vi interessa poi ve lo allegherò direttamente basta chiedere e si può pranzare questo questo lago c'è uno chalet che fa degli ottimi piatti e permette di godere di una bella vista di trascorrere un bellissimo pomeriggio secondo me comunque ottobre è il mese più bello per dedicarsi alla fotografia naturalistica e difatti lo vediamo nell'ultima trattazione che quella della diga di plasmulen siamo sopraggiunti qui in valpellina fondo valle nella località di biona in un venerdì pomeriggio quindi appena finito di lavorare a scuola ho pranzato e poi sono corsa subito qui in questo bellissimo posto perché era l'ultimo giorno con delle condizioni meteo favorevoli per riprendere i colori d'autunno ci vogliono circa due ore ad arrivare a biona in un paesaggio lontano dall'attività dell'uomo quindi lontano da fattori antropici totalmente preservato di fatti dalle belle parole che mi ha rivolto il sindaco nel ringraziarmi per questa mostra fotografica che sto realizzando a condizione di continuare proprio sulla valpellina in questi giorni mi ha detto che ci sono sicuramente degli spunti molto interessanti proprio perché tendono a preservare il paesaggio quindi a evitare ogni degrado da parte delle attività umane questo un sentiero vedete qui che conduce al rifugio preyer che è il culmine della diga prevalentemente di una gratificiare adesso il rifugio preyer è chiuso riempirata la stagione invernale noi abbiamo fatto soltanto un pezzo di quest'alora e abbiamo temuto abbiamo temuto perché la luce cominciava a farsi oscura ma per fortuna grazie a delle apposite modalità che non tutti i fotografi professionisti condividono ma che uso ugualmente perché la dico se c'è un mezzo si deve usare come avere la calcolatrice in matematica non usarla analogamente nelle reflex c'è una modalità scena colori autunnali ecco questo ha permesso di accendere il tutto attorno a noi quindi anch'io sono rimasta incredula perché sono riuscita ad realizzare come potete vedere poi più avanti oppure nel sito nella pagina web dedicata l'ecologia condivisa sulla mia pagina facebook stefania grasso photographer ci sono dei colori meravigliosi in un contrasto acceso tra il giallo arancio degli alberi e l'azzurro dell'acqua dedicherò per un libretto apposito che spero poi di presentare in pubblico appena possibile ecco qui ho anche descritto come ho fatto la fotografia ho specificato come mi piace sempre fare questo connubio tra me la solitudine la solitudine diventa in questi momenti una preziosa compagna per l'anima perché sono bisogno proprio a mio avviso in mergersi nella contemplazione e nell'adorazione di madre natura sono proprio giusto dire autumn visions visioni magnifiche di beatitudine e sarà proprio su questo tema che voglio proseguire a questa rassegna fino alla fine del mese su landscape photography magazine vi ricordo allora l'appuntamento riceverete un invito per assistere a questa intervista su il trionfo di vercelli al progetto dante 2021 nel frattempo vi ringrazio moltissimo per l'attenzione se avete piacere di essere sempre aggiornati sulle mie attività fotografiche potete mandare una mail all'indirizzo info iconista con la k 77 chiocciola gmail.com ancora grazie e buona domenica a tutti